Buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati. Questo è l'ultimo incontro dei tre del nostro seminario su Primo Levi. Intanto volevo ringraziare sia i relatori che sono intervenuti negli scorsi giorni, sia chi ha partecipato da remoto e soprattutto qui presenti. Quindi spero che in una certa misura si sia riusciti a restituire un po' la complessità e anche la curiosità che può generare un autore come Levi per chi magari ha interessi filosofici e non. Con l'incontro di Greppi di lunedì mi pare che sia emersa appunto la complessità della questione, per così dire, etica barra morale dell'opera di Primo Levi, che come abbiamo visto è un autore molto complesso perché risposte definitive non ne abbiamo e proprio questo permette un continuo esercizio di pensiero. L'incontro di Martina Mengoni ieri invece ci ha mostrato quanto, da un punto di vista proprio di acquisizioni della ricerca su Primo Levi, quanto ormai si sia compresa la necessità di intervenire e di leggere l'opera di Levi con una consapevolezza maggiore rispetto a quanto fatto nei decenni precedenti. Cioè quindi, come abbiamo visto, un autore complesso, con una cronologia non ovvia, con una serie di percorsi anche difficili da rintracciare perché, e qui inizio ad avvicinarmi all'intervento che io cercherò invece oggi di sviluppare, Levi non è da un punto di vista di ricerca filosofica un autore facile per il semplice motivo che non ritroviamo in Levi un canone di riferimenti che siamo soliti incontrare nella ricerca filosofica. Abbiamo visto che c'è molta letteratura, pesa tantissimo il dato biografico e questo in Levi ha anche qualcosa, come ha mostrato ieri Mengoni, di metodologico nel senso che è l'attinenza a un dato empirico che lui ha potuto osservare direttamente e oltre quello la generalizzazione, se può esserci, abbiamo visto quanto è difficile, può esserci solo a partire da una consapevolezza appunto data dal dato empirico. Allora, proprio questo approccio, chiamiamolo empirista, estremamente empirista di Levi, è quello che oggi vorrei cercare di sviluppare, nel senso che il focus della mia relazione oggi sarà un aspetto della riflessione di Levi non ancora del tutto esplorato, che gli studi su Primo Levi hanno iniziato ad esplorare soprattutto negli ultimi dieci anni, ovvero quando si è iniziato a avere consapevolezza dell'opera complessiva di Levi, cioè di tutto quel corpus di saggi, racconti, articoli di giornale e conversazioni e interviste non strettamente legate alla questione concentrazionaria. E quindi c'è un autore che ha parlato di moltissime cose, dalla fantascienza, all'etologia, alla biologia, all'astronomia, che non necessariamente hanno a che fare con la questione della Shoah. Certo, rimane sempre sullo sfondo, non può essere altrimenti, ma qui vediamo appunto l'intento da parte di Levi di essere ben altro oltre il testimone. E quindi oggi l'etichetta di testimone è assolutamente un'etichetta de modè, molto limitativa, che ci restituisce una percentuale, sì, incisiva, ma non, diciamo, totalmente esplicativa di quello che è stato Levi in quanto intellettuale della seconda metà del Novecento. Tra l'altro, intellettuale di spicco a livello internazionale della seconda metà del Novecento. E quello di cui oggi vorrei parlare sostanzialmente è Levi di cui mi sono occupato nella mia ricerca come borsista qui all'istituto, ed è una ricerca che, come appunto aveva anticipato il professore Biscuso, ha preso poi forma in una pubblicazione che dovrebbe uscire il mese prossimo, ed è il Levi naturalista, il Levi appassionato, curioso e competente, studioso delle scienze naturali. E, diciamo, per dare un tono filosofico, per descrivere quello che potremmo chiamare in maniera molto grossolana, un'opzione metafisica che possiamo attribuire a Levi, è quello che appunto ho messo nel titolo del mio intervento, cioè il materialismo di Primo Levi. Levi come autore materialista. Un pensiero, una prospettiva sul mondo e sulla vita che, in maniera molto sintetica, paradossale, ma anche provocatoria, ha cercato di riassumere nel sintagma lotta contro la vita. Allora, vorrei iniziare con una mossa che potrebbe apparire insolita, ma per il personaggio di cui stiamo parlando non è assolutamente insolita, mostrando, intanto inizio a condividere delle slide che ho preparato. Ok, vorrei iniziare con una breve clip da questo film del 2014 che spero che molti di voi e molte di voi abbiano visto, che è Interstellar del 2014, un capolavoro della fantascienza contemporanea di questo regista, Christopher Nolan, che tra l'altro, a fine di quest'estate è stato al centro dell'attenzione per il film su Oppenheimer, sulla bomba atomica. Tra l'altro, questo continua ad essere nell'orbita dell'universo Levi. Perché parto da qui? Parto da qui perché, in realtà, se Levi fosse stato ancora vivo, sicuramente ci avrebbe regalato, come ha fatto nell'occasione di altri film di fantascienza, un intervento o un Elzevir o qualcosa su un quotidiano o su una rivista, e credo avrebbe parlato in maniera entusiastica di questo film. Adesso non so se tutti in sala o da remoto l'hanno visto, do proprio delle coordinate della trama per capire. Interstellar, come dicevo, è un film di fantascienza, un po' considerato il 2001 di sé nello spazio degli anni 2000, qualcuno potrebbe ritenerla impropria questa definizione, ma siamo su questi livelli. Di cosa parla? Sostanzialmente parla di questo viaggio intergalattico, di un'umanità ormai completamente al collasso, in cui appunto si cerca un pianeta in un'altra galassia in cui poter andare a vivere, appunto perché ormai la Terra è diventata un luogo inabitabile. Ciò che rende, a mio parere, Interstellar, in realtà un po' tutti i film di Nolan, ma Interstellar in particolare anche filosoficamente curioso e rilevante, è la scelta narrativa di Nolan, che è assolutamente insolita, quasi antitetica per un film di fantascienza. Cioè il film ovviamente si colloca in un futuro più o meno prossimo, un futuro però non tecnologico, non ipertecnologico, anzi è un futuro volutamente antitecnologico, di una Terra, di un'umanità, che in piena crisi esistenziale, proprio da un punto di vista di sopravvivenza, e in piena crisi climatica, perché appunto l'inabilità della Terra è data dalla crisi climatica, ed è un film del 2014, da questo punto di vista, è un'umanità che ha rifiutato la scienza e che ha relegato la scienza a un eccesso inutile di un secolo, il nostro, che viviamo adesso, e quindi che augura, ha trovato nella soluzione della propria sopravvivenza, un ritorno alla Terra. Allora, la clip che ho selezionato, che è brevissima, sono due minuti, ma che vorrei condividere con voi, mostra il protagonista della vicenda, in realtà il film ha due protagonisti, che sono Joseph Cooper, un pensionato pilota della NASA, che ormai fa il contadino nella sua tenuta, e la figlia, Murphy Cooper, che poi in realtà sarà colei che riuscirà a trovare la formula matematica, non sto a descrivere la trama perché è una trama di Nolan, quindi qua ci sono paradossi temporali, insomma, lei e poi colei che riuscirà a dare la formula per salvare l'umanità, grazie all'aiuto del padre in questo viaggio temporale intricatissimo. La scena in questione si pone all'inizio del film, quindi Cooper deve ancora partire, e viene convocato dagli insegnanti di Murphy appunto perché ci sono dei problemi a scuola con i suoi figli. Ora, faccio partire il video. Ah, scusate, no, ho sbagliato. Ah, scusate, no, ho sbagliato. E faccio partire il video pubblico, magari la cosa che vi faccio la sgattica. No, ma non è, come è, come è il suo regazio. Dove c'è il suo regazio, ma è il suo regazio, ma è il suo regazio, è un regazio, è un regazio. Sì, sì. Allora, andiamo insoltre in testa di Roma, che sarà un attimo anche il vostro regazio. Sì, è un regazio. Sì, è un regazio. Allora, andiamo in un regazio da Macri. Sì, non ho fatto un regazio. Io non ho fatto sempre. Quindi, dove c'è questo? Io non ci sono più a sé. Sì, non ho fatto certo, non ho fatto un regazio. Sì, non ha fatto un regazio. Allora, e se non ho fatto un regazio, e non ho fatto un regazio. Come ti fa adesso? Da 15 anni, ma i risultati non sono abbastanza alti. Ma i sogni non è? 180, ma abbiamo 80. No, non ho fatto un regazio, Grazie. 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 Ora, lascio in sospeso il perché di questa scelta, torno alle slide, lascio in sospeso perché sono assolutamente convinto che la filosofia di Cooper, in questo frame, avrebbe sicuramente incontrato tutto il favore di Primo Levi, proprio per la concezione della scienza che Cooper rivendica davanti appunto a che cosa ha quest'insegnante, che rappresenta lo spirito del tempo di questo mondo, di questo tempo di cui Nolan ci parla. C'è appunto questo mondo antiscientifico, scettico nei confronti della scienza, non solo della scienza in quanto sviluppo tecnologico, sviluppo tecnico, ma della scienza in quanto strumento capace di garantire la sopravvivenza umana. Ripeto, lascio in sospeso e aggancio questo Primo Levi, non a caso, perché il 27 gennaio del 1968 Levi pubblica, ha iniziato da poco ad essere un collaboratore della stampa, pubblica sulla stampa un pezzo, un ezeviro, dedicato alla missione dell'Apollo 8, quello è il giorno dell'ammaraggio, cioè il ritorno della navicella sulla Terra, che diciamo è importante perché è stata la missione propedeutica a quella che l'anno successivo sarà la missione, cioè l'Apollo 11, che porterà il genere umano per la prima volta a camminare sulla luna. Questo è quello che scrive Levi, siamo nel 1968, davanti a questa ultima testimonianza di coraggio e di ingegno, non si prova soltanto ammirazione e solidarietà distaccata, in qualche modo, e non del tutto ingiustamente, ognuno di noi se ne sente partecipe. Come ogni uomo, anche il più innocente, anche la stessa vittima, si sente corresponsabile di Hiroshima, di Dallas e del Vietnam, e prova vergogna, così anche il più estraneo al colossale travaglio dei voli cosmici, sente ricadere sull'intero genere umano, e quindi anche su di sé, una parcella di merito e ne esce rivalutato. Per il bene e per il male siamo una sola gente, quanto più ne saremo consapevoli, tanto meno duro e lungo sarà il cammino dell'umanità verso la giustizia e la pace. E poi continua. L'uomo, scimmia nuda, animale terrestre, figlio di una lunghissima dinastia di esseri terrestri o marini, modellato in ogni suo organo da un ristretto ambiente, che è la bassa atmosfera, se ne può staccare senza morire. La sostanza umana, o meglio la sostanza animale, oltre a essere adattabile evoluzionisticamente sulla scala dei milioni di anni e a spese dell'incalcolabile sacrificio delle varianti meno idonee, è adattabile oggi e qui sulla scala dei giorni e delle ore. Dunque, non solo l'uomo è forte perché tale si è fatto, fin da quando un milione d'anni addietro, fra le molte armi che la natura offriva agli animali, ha optato per il cervello. Siamo animali singolari, solidi ed uttili, spinti da impulsi atavici e dalla ragione, e insieme da una forza allegra per cui, se un'impresa può essere compiuta, essa, sia buona o cattiva, non può essere accantonata, ma deve essere compiuta. Questa del volo lunare è un collaudo, altre imprese ci attendono, opere di coraggio e di ingegno, ben altrimenti impegnative, in quanto necessaria, la nostra stessa sopravvivenza, imprese contro la fame, la miseria e il dolore. Devono essere sentite anche queste, come una sfida al nostro valore, e anche queste, poiché possono, debbono essere compiute. Allora, questo è quello che scrive Levi. Ripeto, non mi addentro in questi passaggi, li lascio qua, perché ci torneremo alla fine, però, come vedrete, tutto quello che dirò nel resto della relazione continuerà a girare attorno alle cose che Levi scrive qui. E non sto nemmeno ad entrare in tutte le criptocitazioni presenti in questa citazione. Faccio solo presente, tanto per iniziare a lanciare dei ponti, che questo scimmia nuda, si riferisce al libro di Morris, la scimmia nuda di Nate Ape, questo forza allegra, tra virgolette, oggi sappiamo essere, una citazione diretta dalla conferenza di De Sanctis, il darwinismo nell'arte. Quindi, come vedete, Levi, che appunto non cita, non ci dice cosa cita, però, come vedete, anche in un pezzo di giornale, la ricchezza, e ho soltanto detto due cose delle tante che potremmo dire, no? Come vedete, in un pezzo di giornale, la ricchezza culturale che c'è sempre dietro ogni riferimento di Levi. Allora, dico, lascio in sospeso, ci ritorniamo alla fine. Quello che, appunto, vorrei fare adesso è toccare di petto la questione che è alla base di questo seminario e che per ora è rimasta sullo sfondo, cioè il rapporto di Levi con la filosofia. Nel senso che, ovviamente, se vogliamo capire la posizione di Levi, cioè quello che io, appunto, come vi dicevo, chiamo il materialismo di Levi, no? Questa centralità delle scienze naturali la capiamo soprattutto nel confronto, o meglio ancora, scontro di Levi con la filosofia in quanto disciplina, in quanto forma di sapere. Allora, anche qui partiamo da una citazione. Cioè, ripeto, quello che ho cercato di fare nella mia ricerca è quello di cercare di mettere tra parentesi il Levi più ovvio, cioè il Levi, e poi magari anche più interessante, cioè il Levi politico e il Levi etico, che è quello di cui abbiamo parlato un po', abbiamo soltanto iniziato così a scavare negli scorsi incontri. Io ho cercato di lavorare sui fondamenti strutturali del pensiero di Levi, quella che anche grossolanamente possiamo chiamare sull'ontologia di fondo del pensiero di Levi. Proprio le strutture base, a partire dalle quali poi è anche possibile comprendere meglio la statura filosofica delle sue posizioni in campo etico e politico, sociale, e anche rispetto ad Auschwitz, che è quello che vedremo oggi. Allora, parto da questa intervista con Roberto Di Caro, del fine 1986, poi pubblicata nell'87, che è l'intervista dalla quale poi trago anche la citazione che dà il titolo a questo convegno, a questo seminario. È una delle ultime interviste che Levi dà in vita. Ed è un'intervista interessante perché si parla di diverse cose, in particolare quello di cui qui stanno parlando, siamo nelle battute conclusive, è sulla difficoltà, dice Levi, da parte di uno scrittore, di parlare di se stesso, cito, senza cosmesi. E come questa difficoltà si traduca nel lettore in una sorta di incomprensione dello scrittore, cioè non c'è corrispondenza nello scrittore, per lo scrittore di quello che realmente è lo scrittore, scusate, per il lettore di quello che realmente è lo scrittore di cui sta leggendo un lavoro. Allora dice Di Caro, dunque c'è divaricazione, scisma, tra l'autore in carne e ossa e l'autore quale lo ricostruisce attraverso le sue pagine. Il lettore la immagina diverso da quello che lei sente di essere. E risponde Levi, diversissimo a giudicare dalle lettere che ricevo. Mi considerano una specie di guru. Può darsi che dei miei libri trappellino a saggezza che io non sento di avere. Per me non è altro che misura. È il non fare il passo più lungo della gamba. Una virtù piemontese, forse. Prego il lettore, ho scritto nella premessa al libro dei miei racconti e saggi che la stampa ha pubblicato un paio di mesi fa, stava facendo riferimento alla raccolta racconti e saggi, di non andare in cerca di messaggi. È un termine che detesto perché mi mette in crisi, perché mi pone indosso panni che non sono i miei, che anzi appartengono a un tipo umano di cui diffido. Il profeta, il vate e il veggente sono la peste dei nostri giorni, i profeti, o forse sono la peste di sempre. E di caro ribatte. Perché il futuro non va indagato? Levi. Perché è quasi impossibile distinguere un profeta vero da uno falso. Il linguaggio è lo stesso. Rincazza di caro. Allora è il linguaggio che inganna, che ha in sé qualcosa di costituzionalmente mistificatorio. Costituzionalmente mistificatorio. E Levi subito. Scusi, lei è un filosofo? Sente parlare oscuro? E subito pone. E di caro. No, ma lo ha detto col tono di chi diffida dei filosofi. E così? E Levi. Beh, sì, sarà per ignoranza. Sa, io ho sempre fatto vernici, sono abituato a una vita concreta in cui un problema o si risolve o si butta. Invece i problemi filosofici sono sempre quelli dei pressocratici. Ci si gira intorno, ci si ritorna sopra. E poi ogni filosofo ha il vizio di inventarsi un suo linguaggio che bisogna sforzarsi di penetrare prima di capire cosa vuol dire. No, non fa per me. Questo è la chiusura amara di Levi alla filosofia. Ora, un lettore consapevole, anche uno specialista dell'opera di Levi, non rimane per nulla stranito da questa durezza di giudizio nei confronti di una disciplina da parte di Levi. perché appunto Levi in pochissime battute proprio in questa intervista sostanzialmente rivendica quello che è un polso manifesto intellettuale. Cioè, la filosofia per Levi ha tutti i vizi di quello che per lui rappresenta il peggio dell'attività intellettuale. Cioè, oscurità di linguaggio. Levi nel 1976 scrive l'articolo dello scrivere oscuro che è un enorme atto d'accusa nei confronti degli intellettuali che parlano oscuro e non si fanno capire il che è un atto illegittimo perché mette il lettore o l'ascoltatore in una posizione di subalternità, di inferiorità, ricordate quello che dicevamo sulla disuguaglianza al primo giorno e questo è un atto illegittimo che l'intellettuale non può fare e che se fa fa per puro amor proprio e quindi fa venire meno lo scopo del sapere che è comunicare a crescere la comunicazione tra parlanti per Levi e poi soprattutto il tono profetico e altra cosa per Levi la ragione l'atto della ragione è un atto concreto cioè che porta a risolvere problemi mentre la filosofia questo non vuole fare allora l'altra cosa interessante è che le critiche che Levi rivolge alla filosofia avvengono praticamente tutte nell'ultima fase della sua vita cioè girano tutte praticamente tra l'83 e appunto la fine dell'86 inizio dell'87 no? cito ancora non sto a darvi tutte le occorrenze ne cito ancora una che è dell'85 quindi di un anno prima con Gabriel Motola è un'intervista un po' più complicata si parla appunto del rapporto tra spirito e materia che per Levi è anche un rapporto politico lo vedremo e chiede Motola anzi dice lo spirito non può essere provato se non da chi crede nella sua esistenza Levi nella precedente risposta appunto parlava e ci torneremo a breve di come per lui la filosofia dello spirito cioè la filosofia insegnata nei licei quando lui era liceale la filosofia della riforma gentile degli anni del fascismo fosse propedeutica questo sostanzialmente perché ha letto il sistema periodico sa che è la posizione di Levi fosse sostanzialmente una filosofia d'appoggio ideale per un regime come il fascismo che chiedeva obbedienza a scapito di un uso critico della ragione e lo spirito chiede fede ecco perché Levi dice la materia che chiede invece critica chiede invece scontro senso critico veniva sostanzialmente scansata dal regime e dai suoi ideologi qui risponde Levi sì che è speculare a quello che dirà un anno dopo sì siamo ancora a Platone non vi è fine la discussione su cosa significhi essere esistere se l'anima sia immortale oppure no al contrario con le scienze naturali ogni idea può essere provata o smentita allora da un lato soprattutto per chi studia filosofia non possiamo che rifiutare il giudizio di Levi no? che è un giudizio grossolano che riduce la filosofia a una delle sue possibili forme e che riduce duemila anni di storia del pensiero filosofico a una stupida riproposizione dei temi presocratici o antichi quindi è evidente che è un'immagine macchiettistica che qui Levi si costruisce il bersaglio per colpirlo meglio quindi è evidente che non possiamo prendere sul serio il giudizio il giudizio di Levi vero anche però che prima di tutto non parliamo di uno specialista seconda cosa questo giudizio che alla fine degli anni 80 può sembrare campato lì in realtà si capisce se seguiamo l'itinerario intellettuale di Levi dall'inizio perché qui a parlare è certamente Levi anziano saggio coi capelli bianchi che tutti conosciamo ma questo giudizio qui nasce nel Levi giovane nel Levi adolescente nel Levi liceale che è il Levi al quale appunto io ho dedicato la mia ricerca vanno ricercati in quel periodo appunto perché è il periodo in cui Levi matura l'odio verso la filosofia e se iniziamo ad entrare nelle ragioni di questo odio allora iniziamo anche a capire la ragione di Levi e la portata della sua provocazione insisto molto sul tono provocatorio di Levi io nella mia ricerca sostanzialmente mi sono concentrato sul decennio precedente a Levi testimone di Auschwitz il decennio che va dal 1932 cioè l'anno di inizio del liceo al 1942 l'anno della morte del padre e dell'inizio per Levi dell'età adulta cioè esce dall'università le difficoltà date dalle leggi razziali trovare lavoro in maniera precaria e difficile e quindi questo è il decennio della formazione di Levi della formazione liceale allora Levi sostanzialmente si iscrive al liceo liceo massimo d'Azzeglio di Torino il liceo più importante della buona borghesia torinese di cui Levi faceva parte della buona borghesia ebraica torinese ma vi entra già con una frattura no? Levi entra al liceo che ha già un po' le idee chiare di quelli che sono i suoi interessi chiamiamoli teorici stiamo parlando di un quattordicenne ma di un quattordicenne di inizio novecento e Levi ha da poco fatto il bar mitzvah quindi è un neoadolescente che ancora vive all'interno della cultura familiare della cultura ebraica ha da poco fatto il bar mitzvah il padre però è un uomo di scienza anche lui è un ex ingegnere fornisce continuamente libri al suo figliolo tra questi libri nel 32 gliene consegna uno in particolare allora ecco cosa ci dice Levi siamo sempre un'intervista con Gozzi dell'85 non sono mai stato un credente salvo che per qualche mese dopo il bar mitzvah il 1932 cosa che capita a molti ragazzini ebrei è quasi una norma oso dire per spavento dopo la mia tendenza di naturalista di osservatore del mondo intorno a me mi ha distaccato da questo ho letto tutte altre cose Darwin per esempio che mi ha fatto molta impressione ma il colpo decisivo è stato proprio l'esperienza del Lager mi pare che fornisse l'episodio della salvazione casuale del ringraziamento assurdo mi pare appunto ha distrutto in me qualunque velleità di credere a una provvidenza allora Darwin è l'eroe filosofico degli anni adolescenziali di Levi cioè è colui che lo stacca completamente da la cultura religiosa crea in lui un approccio lo dice Levi di naturalista nei confronti del mondo fa nascere in Levi l'amore per le scienze naturali il problema è che poi questo ragazzo inizia a andare al liceo va al liceo il liceo appunto della riforma gentile il liceo che ha elevato le discipline umanistiche e poi in particolare la filosofia avetta del sapere e diciamo questa impostazione del sapere qual è l'effetto come ogni gerarchia c'è sempre un subalterno in questo caso il subalterno sono le scienze naturali meri pseudo concetti scienze informative sterili che non producono sapere che non conducono la verità che non sono capaci di universalità e che appunto sono buone per trovarsi un mestiere sto tutta citando parole di Levi Levi va quindi con questo interesse che la scuola mortifica completamente Levi la chiamerà la congiura crociano gentiliana e per capire questo potrei spendere molte più parole butto anch'io provocazioni perché non voglio stare a lungo su queste cose vorrei poi dare un po' al cuore citiamo dove Levi ci ha parlato nitidamente di queste cose è il sistema periodico dove appunto questa insofferenza che poi diventa nel sistema periodico anche un atto politico e un atto culturale l'atto politico nel senso che ovviamente quella è una scuola di regime e per Levi la filosofia dello spirito qua già vediamo che l'accusa di Levi non era così generalizzata la filosofia Levi non ha come bersaglio la filosofia Levi ha come bersaglio la filosofia idealista o il neo-idealismo quindi punto uno punto due questa per Levi è una battaglia culturale nel sistema periodico quindi siamo nel 75 molti anni dopo e cioè la battaglia per il superamento della divisione delle due culture che Levi stesso incarna come scrittore perché Levi non è una persona che detesta le scienze umanistiche è un appassionato di letteratura è un appassionato di poesia scrive fa lo scrittore lavora in fabbrica che fa lo scrittore quindi Levi è per il superamento di questo scisma e ovviamente qui abbiamo anche il tono risentito perché mai un uomo di scienza un chimico come lui un appassionato di scienze naturali dovrebbe accettare senza protestare la posizione subalterna in cui dall'alto la filosofia lo vuole porre perché Levi dovrebbe accettare e ogni uomo di scienza di essere mero sapere informativo perché le discipline le scienze naturali non sono pensiero non producono pensiero e questo è quello esattamente che troviamo scritto nel racconto idrogeno che è dedicato proprio a questi anni di liceo gli anni in cui Levi è uscito da scuola fa esperimenti con gli amici osserva gli animali fa queste cose e scrive è un passaggio bellissimo scrive per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future che avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco simile a quella che occultava il monte Sinai come Mosè da quella nuvola attendevo la mia legge l'ordine in me attorno a me e nel mondo ero sazio di libri che pure continuavo a ingoiare con voracità indiscreta e cercavo un'altra chiave per i sommi veri sommi veri grazie a Domenico Scarpo oggi sappiamo essere il titolo del manuale di religione presente ad Azzeglio negli anni in cui Levi era studente detto ciò una chiave ci doveva pur essere ed ero sicuro che per una qualche mostrosa congiura ai danni miei e del mondo non l'avrei avuta dalla scuola a scuola mi somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza ma che non mi riscaldavano le vene era snervante nauseante ascoltare discorsi sul problema dell'essere del conoscere quando tutto intorno a noi era mistero che premeva per svelarsi ecco tutti i filosofi e tutti gli eserciti del mondo sarebbero stati capaci di costruire questo moscerino no e neppure di comprenderlo saremmo stati chimici avremmo dragato il ventre del mistero con le nostre forze con il nostro ingegno avremmo stretto proteo alla gola avremmo troncato le sue metamorfosi inconcludenti da Platone ad Agostino da Agostino a Tommaso da Tommaso a Hegel da Hegel a Croce lo avremmo costretto a parlare tra l'altro questo da Platone ad Agostino è esattamente l'indice della manna che è il manuale di filosofia che Levi studiava al liceo in quegli anni quindi come vedete allora questo per dire che qui la chiave dei sommi veri sono le scienze naturali per Levi la via per la verità sono le scienze naturali è una provocazione alla filosofia che già dal nome è la disciplina del sapere Levi ci dice ciò che fa pensare ciò che produce pensiero sono le scienze naturali non quella filosofia lì ok allora quindi abbiamo un giovane adolescente deluso frustrato dall'insegnamento umanistico del liceo che comunque persegue con diligenza e ottimo rendimento Levi ha ottimi voti il migliore della classe la sua professoressa di italiano dirà in questa classe ci sarà la scritta qui ha studiato primo Levi quindi già tutti vedevano che quel ragazzo era molto intelligente eppure svolgeva il suo compitino ma l'interesse verso quel mondo lì non c'era l'interesse era a casa allora io nella mia ricerca ho cercato di lavorare su questi due binari vedere che cosa Levi ha studiato a scuola e lì l'operazione è facilitata dal fatto che grazie anche all'ottimo archivio del liceo d'Azzeglio di Torino abbiamo abbastanza materiale per sapere i programmi i libri di testo quindi noi riusciamo a vedere che cosa Levi più o meno può aver studiato a scuola appunto sappiamo che aveva il Lamanna sappiamo quali manuali aveva di latino insomma sappiamo un po' di cose non sappiamo nulla di quello che invece Levi può aver letto a casa quindi la difficoltà della mia ricerca è stata interrogare questo secondo polo perché qui entriamo nel mondo del possibile Levi può aver letto tutto ha letto Darwin si è appassionato di scienze naturali a quel punto ha letto tutto però ovviamente una ricerca bisogna farla con un minimo di criteri e quindi mi sono appoggiato a quel poco che Levi ci ha detto la sua biblioteca personale non è ancora aperta agli studiosi e alle studiose quindi che cosa sappiamo a parte alcuni titoli di libri di astronomia sempre dati dal padre il padre è l'intercessore in questo caso in un dialogo con Tullio Reggio dell'84 levi e questo è importantissimo una manna dal cielo proprio di sfuggita ci dice che il padre era solito acquistare e quindi far leggere a lui i libri contenuti in due collane di divulgazione scientifica degli anni 30 che sono Cultura d'oggi di Mondadori e Avventure del pensiero di Bonpiani giolli nel senso che qui è bastato semplicemente andare in biblioteca consultare il catalogo io mi sono fermato semplicemente a quel decennio quindi tra 32 e il 42 e che cosa emerge dallo spoglio di questi cataloghi emerge che appunto parliamo di un giovanotto che però a 12 anni il padre fa leggere l'introduzione alla psicoanalisi di Freud in tedesco quindi appunto sono ragazzi di quella generazione lì per cui leggere quelle cose era c'era anche molta diciamo frustrazione repressione anche da quel punto di vista lì però Levi era questo leggeva libri che erano tutt'altro che divulgativi emerge quindi un Levi che ha potuto studiare libri di astronomia di etologia ma quello che è stato risultato completamente inatteso che a un certo punto ma anche adesso lo dico senza sensazionalismi un po' spaventato e che in realtà però non casualmente in realtà queste due collane soprattutto in quel decennio lì sono fitte di libri di eugenetica quello che Levi incontra sono libri che appartengono diciamo al colpo di coda del dibattito primo novecentesco sull'eugenetica e snocciano alcuni titoli e qui iniziamo a capire il perché di interstellare di quella citazione dell'Apollo 8 ne dico proprio qualcuno ok cacciatori di microbi camice bianco uomini contro la morte la scienza in lotta col tempo lotta contro la vita che cosa sono sono tutti libri di medici biologi naturalisti di vario tipo chimici che sostanzialmente di cosa ci parlano parlano dei successi della medicina moderna parlano del fatto che la medicina rappresenta la lotta dell'uomo contro la vita in quanto fenomeno mortale questa è una prospettiva materialistica antivitalistica della vita quindi la vita è un fenomeno mortale fragile del tutto contingente contro la quale la scienza lotta appunto per guarire i drammi della finitudine il dolore la sofferenza inutile ovviamente perché in una prospettiva materialista non c'è consolazione non c'è redenzione per quel dolore e la scienza è l'unica cosa che può farlo ovviamente sono libri che a noi possono anche scatenare simpatia perché c'è tutto l'entusiasmo di una prima generazione che inizia a vedere i successi della scienza medica cioè con grande entusiasmo rivendicano il miglioramento delle condizioni di vita l'allungamento della vita l'elenco sempre più lungo di malattie curabili e il tutto possibile nel giro di pochissime generazioni quindi quello che Levi leggi sono libri che gli restituiscono un'immagine della scienza morale di una scienza il cui compito morale è quello di salvare l'umanità dai limiti dal dramma dalla tragedia nel senso che non ha riscatto della finitudine qui iniziamo a capire quella concezione della scienza che Levi mette in conclusione della citazione su della luna e l'uomo ok questo permette anche di capire a mio parere quindi sono stato anche molto felice di vedere questo uno degli aspetti più problematici del pensiero di Levi che un po' ha torturato gli studiosi da questo punto di vista e cioè il fatto che malgrado Auschwitz in Levi non avremmo mai lo sviluppo di un antipregiudiziale contro l'eugenetica malgrado Auschwitz Levi non sarà mai del tutto contrario all'eugenetica se per eugenetica si intende il potenziamento della specie in quei termini ovviamente non sto neanche a specificare che non intende come lo intendeva Mengele ok però per dire anche l'eco lungo ecco perché io parlo di fondamentali qui parliamo di un periodo della vita di Levi in cui proprio come un imprinting si pongono i tasselli base di un pensiero che poi rimane per tutta la vita nell'86 sempre sulla stampa Levi interviene in merito a un esperimento sulla determinazione dei sessi tra l'altro fatto qui a Napoli dove ovviamente Levi prende posizione contro quell'esperimento però cosa scrive all'inizio tanto per sottolineare la sua posizione no? infatti è io lo proibirei si intitola al pezzo non ho obiezioni di principio contro l'eugenetica mi pare che se veramente si riuscisse a ottenere senza violenza sulle persone un'umanità più robusta più intelligente più mite più resistente alle malattie e dalle tentazioni non ci sarebbe niente di male e nessun moralista potrebbe sollevare obiezioni appunto è un moralista colui che rifiuta l'applicazione della scienza alla vita umana per migliorarla tuttavia appunto basta che non ci siano discriminazioni Francesco Cassata in uno studio del 2016 fantascienza punto di domanda si intitola ha riassunto secondo me in maniera molto chiara la posizione di Levi e cioè sostegno all'eugenetica come miglioramento biologico della specie ma intervento dello Stato al fine del prevenire qualsiasi forma di discriminazione questo è la posizione di Levi che è una posizione problematica non conclusiva però appunto questa è mi pare cioè capiamo retroterra di queste considerazioni a mio parere allora adesso vorrei passare invece alla parte centrale del mio intervento e cioè appunto ritornare un po' all'eroe filosofico di Levi che è Darwin perché dico eroe filosofico perché effettivamente adottare un approccio naturalistico in chiave darwiniana non è una scelta per così dire indolore è una scelta che è totalizzante dal punto di vista della visione del mondo che si decide di adottare allora noi sappiamo grazie a questo libro La ricerca delle radici che è un'antologia in cui Levi colleziona antologie di testi di libri per lui importanti e del 1981 noi sappiamo appunto che il libro che Levi legge di Darwin L'origine delle specie nel 1932 è l'edizione per l'istituto italiano l'istituto editoriale italiano di Milano è un'edizione in due volumi con un apparato di avantesti diciamo il più denso apparato di avantesti quindi come prefazione postfazione disponibile in quel momento con la traduzione di Canestrini anche quella della fine del 1800 però al di là di questi dettagli filologici noi sappiamo che Levi legge questo libro quando è giovane la ricerca delle radici e lo antologizza qui scusate dell'origine delle specie lo antologizza qui nella ricerca delle radici questo è il cappello introduttivo ogni saggio antologizzato e accompagnato da un cappello introduttivo che si intitola perché gli animali sono belli ecco questo è quello che Levi scrive di Darwin e tra l'altro sono le uniche righe che Levi ha dedicato a Darwin in maniera esplicita Darwin ebbe molti nemici qualcuno ne ha ancora erano difensori della religione e lo attaccavano perché vedevano in lui un demolitore di dogmi è incredibile la loro miopia dall'opera di Darwin che coincide con la stessa vita spira una religiosità profonda e seria la gioia sobria dell'uomo che dal gorviglio estrae l'ordine che si rallegra del misterioso parallelismo fra la propria ragione e l'universo e che nell'universo vede un grande disegno in queste pagine di polemica aspra e quasi divertita contro la tesi assurda che gli animali e le piante siano stati creati belli affinché siano ammirati dall'uomo Darwin raggiunge la composta bellezza del ragionamento streno e serrato negando all'uomo un posto di privilegio nella creazione riafferma col suo stesso coraggio intellettuale la dignità dell'uomo ma perché ciò che è bello per noi è tale anche per gli insetti e per gli uccelli è tipico delle grandi risposte far nascere nuove grandi domande allora qui è un elogio della figura di Darwin anche qui potremmo stare minuti e minuti a parlare delle fonti dietro queste righe ma non è quello che mi interessa fare ora quello che mi interessa è che ci dice molto dell'intelligenza di Levi è la scelta il fatto che Levi sceglie di antologizzare un passo preciso e nemmeno così ovvio dell'origine delle specie sintomo di quanto fosse un latore accorto di quell'opera perché il passaggio che viene antologizzato nel capitolo perché gli animali sono belli è l'ultimo paragrafo del sesto capitolo dell'origine delle specie che è presente sin dalla prima edizione quindi della traduzione che ha potuto consultare Levi che è il capitolo dedicato alle difficoltà della teoria cioè il capitolo in cui Darwin si preparava a ricevere il colpo delle critiche Darwin ragionava spesso così immaginava le accuse e quindi iniziava a sviluppare delle controrisposte e Levi antologizza l'ultimo paragrafo che si intitola fino a che punto la teoria utilitaria sia giusta come si è raggiunta la bellezza allora la teoria utilitaria è esattamente la tesi che viene contrastata dai nemici di Darwin cioè la tesi qui assurda quindi anti-utilitaria che gli animali e le piante siano stati creati belli affinché siano ammirati dall'uomo Levi sceglie forse il paragrafo in cui Darwin contrasta quello che era il nodo filosofico più spinoso di tutta la teoria della selezione naturale tanto è vero che appunto riga 4 di questo paragrafo Darwin dice se la teoria anti-utilitaria fosse vera cioè l'idea che il bello no? che appunto negli altri animali scusate dico meglio la teoria utilitaria è la teoria che Darwin difende e cioè è l'idea che le modificazioni avvengono in un vivente solo ed esclusivamente per la sua utilità non per nessun'altra ragione la teoria anti-utilitaria suppone che quelle modificazioni avvengano per produrre piacere in qualcun altro sia anche solo il piacere estetico dell'essere umano o del creatore cioè i due vertici del creato Darwin dice che se la teoria anti-utilitaria fosse vera sarebbe fatale per tutta la mia teoria cioè se questa cosa fosse vera tutta la teoria della selezione naturale sarebbe da cestinare e questo perché la teoria anti-utilitaria negherebbe i due assunti ontologici principali della selezione naturale e cioè il primo è l'antifinalismo cioè l'idea che la selezione naturale non ha alcuna finalità è puro caso che si sviluppi in maniera contingente e l'unico criterio di sviluppo è appunto l'utilità del singolo vivente da qui corollario il secondo principio ontologico e cioè l'individualismo ontologico e cioè che l'unica realtà che esiste è l'individuo come sapete come saprete l'origine delle specie è un titolo paradossale perché è un libro proprio scritto per dimostrare che le specie non esistono esiste solo l'individuo le specie sono sostanzialmente una collezione astrattiva di tanti individuali simili punto ora Darwin si impegna a dimostrare che è assolutamente pensabile che è assolutamente ragionevole la dottrina utilitaria quindi la sua tesi ma ciò apre al problema filosofico che Darwin non può rispondere a cui non può rispondere nell'origine delle specie e cioè se è impossibile che la selezione naturale produca un effetto positivo in altri e soltanto nell'individuo allora com'è possibile la morale? questo è il capitolo in cui nella sottotrama di queste pagine si pone il problema di come spiegare la morale da un punto di vista esclusivamente naturalistico perché la morale è esattamente il contrario cioè è il gesto altruistico e sapete è un tema ancora dibattutissimo nel dibattito evoluzionistico qui nasce il problema il problema è che Darwin di queste cose non parla nell'origine delle specie non parla di morale non parla di Dio e non parla nemmeno dell'uomo che è esattamente ciò di cui Levi invece parla qui cioè che l'origine delle specie è comunque il pensiero di Darwin è un pensiero che riabilita la dignità dell'uomo allora l'altra cosa che ho cercato di fare è di dimostrare che negli stessi anni Levi ha compiuto una mossa praticamente scontata cioè ha letto abbia letto l'origine dell'uomo di Darwin che è invece il libro in cui tutte queste questioni vengono toccate anche qui non entro nella dimostrazione del fatto che Levi possa aver letto questo libro lo possiamo capire da molte cose per il semplice fatto che di intelligenza animale di morale della struttura umana della questione antropologica Darwin parla soltanto nell'origine dell'uomo non nell'origine delle specie ora perché è importante sapere che Levi abbia letto l'origine dell'uomo è importante perché e qui ci avviciniamo se questo è un uomo nell'origine dell'uomo soprattutto nella prima parte Darwin tocca appunto il problema dell'origine naturale della morale è quello che poi appunto farà sì che Nietzsche lo inserisca tra i genealogisti della morale Darwin descrive la sua genealogia naturalistica del senso morale quindi come si può sviluppare in termini evoluzionistici l'altruismo sto semplificando ma almeno ci capiamo e qui Darwin arriva alla definizione di un movimento filosoficamente complesso molto delicato anche molto fragile nella sua tenuta teorica nella sua consistency diciamo e cioè è il rapporto tra morale e natura o meglio ancora tra civiltà e selezione naturale perché perché sostanzialmente per Darwin il senso morale nasce all'interno di quel micromondo del vivente che sono gli animali sociali in particolare gli animali sociali superiori cioè i mammiferi quindi anche l'essere umano e sostanzialmente corrisponde a un potenziamento dell'istinto sociale per eccellenza cioè la simpatia ovvero la nostra capacità di provare piacere per la gioia altrui e di provare dolore per la sofferenza altrui ora nell'essere umano dice Darwin proprio per le facoltà intellettuali più sviluppate rispetto ad altri animali superiori così lui li chiama ancora nell'essere umano questa lo sviluppo della simpatia sto veramente facendo dei tagli impropri ma lo sviluppo della simpatia è quello che dà inizio al processo di civilizzazione cioè la civiltà per Darwin corrisponde con quell'orizzonte in cui alle leggi eliminative della selezione naturale che sono spaccati in due idonei e non idonei adatti e non adatti fit e unfit si sostituiscono dei criteri che anziché essere eliminativi sono inclusivi cioè la civilizzazione è quella che fa sì che gli inadatti possono essere per così dire salvati dalla selezione naturale è quello che è stato chiamato l'effetto reversivo dell'evoluzione anche questo non è un termine molto preciso perché presuppone una sorta di dialettica e non era di certo questo l'intento di Darwin però stiamo parlando anche dei capitoli di uno dei passaggi più controversi del Descent of Man dell'origine dell'uomo di Darwin leggo e vado veloce nei selvaggi i deboli di corpo di mente sono in breve eliminati e quelli che sopravvivono presentano comunemente una fiorente robusta salute d'altra parte noi uomini inciviliti cerchiamo ogni mezzo onde porre ostacoli al processo di eliminazione fabbrichiamo ricoveri per idioti gli storpi ed i malati facciamo legge per i poveri e i nostri medici si stillano il cervello per salvare la vita di ognuno fino all'ultimo momento vi è ragione per credere che il vaccino ha preservato migliaia di vite che con una debole costituzione sarebbero prima morte di vaiolo così i membri deboli delle società incivelite si riproducono il sentimento che ci spinge a soccorrere gli impotenti è principalmente un effetto incidentale dell'istinto di simpatia che fu in origine acquistato come una parte degli istinti sociali ma che divenne in seguito nel modo precedentemente indicato più tenero e più largamente diffuso e qui la conclusione ambigua di Darwin quindi dobbiamo sopportare senza lagnarci i sicuri cattivi effetti del sopravvivere dei deboli e del loro propagarsi ma sembra che vi sia almeno un impedimento che opera efficacemente cioè che i membri più deboli ed inferiori della società non si sposano così facilmente come i più sani e questo ostacolo può essere indefinitamente accresciuto sebbene sia forse solo una speranza più che una certezza che i deboli di corpo e di mente siano per astenersi dal matrimonio allora come ha detto Antonello La Vergata qui Darwin tira un colpo al cerchio e uno alla botte nel senso che da un lato ci dice che è un obbligo morale per un paese incivilito per una civiltà salvare i deboli dal rischio dell'eliminazione in cui invece sarebbero sostanzialmente senza scampo dinanzi alla selezione naturale dall'altro lato e qui è il Darwin biologo se degli inadatti si possono riprodurre questo potrebbe portare all'indebolimento della specie qui Darwin entra di petto nel dibattito eugenetico scattato proprio dal dibattito scatenato dalla selezione naturale suo cugino Galton era colui che sostanzialmente inaugura il dibattito ed è quel dibattito che Levi trova in coda nei libri di cultura d'oggi avventure del pensiero tanto per intenderci quello che però è evidente da questi passaggi e che dobbiamo immaginarci possa aver compreso Levi è che in Darwin Levi trova anche una possibile risposta al tema morale sebbene difficile perché vedete che a questo punto sembra generarsi un dualismo tra civiltà e natura un dualismo tipicamente umanista e un po' anche antropocentrico che però appunto in Darwin dobbiamo concepire come una sorta di discontinuità in una continuità ontologica è un movimento complicato concettualmente aperto a qualsiasi aporia e infatti anche e questo rimane anche in Levi allora entro nella parte conclusiva che è appunto detto tutto questo questa è a mio parere la forma mentis di quel ragazzo di 24 anni che nel gennaio fine gennaio del 44 si ritrova dentro Auschwitz perché appunto non dobbiamo dimenticarci che se questo uomo è stato scritto da un non scrittore da un ragazzo giovanissimo che aveva alle spalle un'esperienza liceale e una laurea in chimica e come già anticipavo nell'incontro con Greppi abbiamo visto che dalla prefazione di sequestro un uomo primo Levi getta pone l'asticella molto alta cioè il suo intento è quello di utilizzare Auschwitz per compiere una riflessione su alcuni aspetti dell'animo umano quindi c'è una vocazione chiamiamola filosofico morale del libro però scritta da questa persona appunto c'è un'ingenuità di fondo di un giovane che pensa a partire da quello di cui dispone in quel momento cioè un'ottima cultura liceale e una cultura specialistica in chimica e un interesse autodidatta in scienze naturali questo più o meno è il ragazzo che scrive se questo è un uomo ora il capitolo centrale di se questo è un uomo è quello che reca il titolo i sommersi e salvati che poi darà il titolo all'ultima opera di cui abbiamo parlato largamente ieri e qui ed era anche il titolo originale che Levi voleva dare a se questo è un uomo allora questo per un autore tutti noi sappiamo quando cerchiamo di dare un titolo a un nostro scritto il titolo fa sistema il più delle volte no cioè cerca di essere un iper riassunto di quello che vogliamo dire di quello che per noi è importante di quello che abbiamo scritto e Levi si presenta all'editore in realtà il primo titolo è sul fondo ma il titolo che consegna all'editore è i sommersi e i salvati poi l'editore Antonicelli ha decidere di chiamarlo sequestrui un uomo estrapolando un verso della poesia che Levi pone in epigrafe al libro quindi la scelta del titolo è dell'editore non di Levi scelta azzeccatissima non tradisce nulla del libro però capiamo cos'era per Levi essenziale di quello che lui aveva scritto ed è appunto in quel capitolo lì dove Levi espone quella che come vedremo adesso lui non ha problemi a chiamare la sua teoria c'è un'intervista del 1974 con lo storico Collotti che è un caso raro nell'enorme corpus di conversazioni e interviste di Levi perché immaginiamo questi sono gli anni in cui le interviste crescono esponenzialmente però purtroppo soprattutto per noi che magari abbiamo un interesse filosofico le interviste sono molto rindondanti è sempre tutto centrato su lei come testimone ok Collotti ha la capacità di considerare Levi come un teorico in questa intervista incalza Levi proprio su chiedere sul significato di quello che Levi voleva dire no? e la domanda che pone qui Collotti appunto è secondo lei qual è il significato della sua testimonianza e questo è quello che risponde Levi e qui vedete vedremo come riecheggia tutto quello che abbiamo detto sinora sul naturalismo di Levi dice Levi non so cioè appunto qual è il significato non so sostanzialmente o perlomeno in primo luogo quello che ho cercato di teorizzare nel capitolo che si chiama i sommersi e i salvati cioè una bipartizione dell'umanità per cui mi sembra che per natura per nascita gli uomini si dividono in due categorie quelli che vanno in su e quelli che vanno in giù è una cosa estremamente disgustosa questa contraddice a tutto quello che noi pensiamo in fatto di morale o di sociologia o di politica ma sembra che fosse così allora che ci fossero i sopra e i sotto i sommersi e i salvati quelli che vincono e quelli che perdono sono cose che tutti abbiamo intravisto nella vita di tutti i giorni ma come sempre come sempre avveniva in un campo di concentramento queste cose avvenivano senza coperchio allo scoperto diciamo così non serviva al microscopio per vederle e neppure una meditazione ma saltavano agli occhi si vedeva arrivare il convoglio gente nuova e dopo pochi giorni la scelta spontanea era avvenuta come un setaccio c'erano quelli che stavano sopra e quelli che stavano sotto li ho chiamati cinicamente i sommersi e i salvati non era una salvazione in senso cristiano certamente no non in senso religioso era darwiniano piuttosto erano gli idonei e non idonei sopravvivenza e basta ora qui tenendo in mente quello che Levi dice a Collotti possiamo entrare nel merito di quello che abbiamo già chiamato in precedenza l'esperimento Auschwitz allora questo per chi non ricordasse per chi non avesse letto Sequestunuomo i sommersi e salvati è la parte saggistica di Sequestunuomo in cui Levi appunto sveste i panni del testimone veste quelli dello scienziato e cerca con uno sguardo il più possibile oggettivo distaccato scientifico di trattare le sue osservazioni no? quell'empirismo di cui parlavamo all'inizio del Lager cercando di trarne appunto uno studio dell'animo umano uno studio del comportamento umano in condizioni estremamente eccezionali leggerò perdonate ma Levi è più chiaro di qualunque spiegazione che qualcuno possa fare tanto meno io allora dice Levi questa di cui abbiamo detto e diremo è la vita ambigua del Lager in questo modo duro premuti sul fondo hanno vissuto molti uomini dei nostri giorni ma ciascuno per un tempo relativamente breve per cui ci si potrà forse domandare se proprio metta conto e se sia bene che di questa eccezionale condizione umana rimangono a qualche memoria a questa domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente cioè qual era la domanda ma visto che nel Lager ha vissuto comunque un numero limitato di animali umani rispetto al numero complessivo della specie e che erano condizioni del tutto particolari delimitate nel tempo e nello spazio può essere una condizione dalla quale è possibile trarre delle generalizzazioni questo è il problema la domanda è puramente retorica infatti a questa domanda ci sentiamo di rispondere affermativamente sì lo può essere noi siamo infatti persuasi che nessuna umana esperienza sia vuota di senso e indegna di analisi e che anzi valori fondamentali anche se non sempre positivi si possono trarre da questo particolare mondo di cui narriamo vorremmo far considerare come Lager sia stato anche e notivolmente una gigantesca esperienza biologica e sociale ora qual è l'esperimento Auschwitz è questo questo è il setting sperimentale si rinchiudono tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età condizione origine lingua cultura e costumi e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante controllabile identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni e quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale che cosa acquisito del comportamento dell'animale uomo di fronte alla lotta per la vita allora quindi questo è il setting sperimentale qui arriva quindi come vedete un setting di estrema sopravvivenza Levi lo sa benissimo qual è appunto la condizione che ha descritto e qua appunto uno potrebbe la risposta più ovvia cioè immediatamente qual è la nostra risposta più ovvia che da qui non può fare altro che nascere l'individuo obesiano sostanzialmente della lotta di tutti contro tutti e Levi dice noi non crediamo alla più ovvia e facile deduzione che l'uomo sia fondamentalmente brutale egoista e stolto come si comporta quando ogni sovrastruttura civile sia tolta e che lo haftling cioè il prigioniero non sia dunque che l'uomo senza inibizioni quindi qua c'è lo scarto dell'ipotesi obesiana quindi scarto del pessimismo antropologico noi pensiamo piuttosto che quanto a questo null'altro si può concludere se non che di fronte al bisogno al disagio fisico assillanti molte consietudini e molti istinti sociali spia linguistica darwiniana sono ridotti al silenzio cioè Levi qui sta assumendo la posizione la definizione antropologica darwiniana e non solo darwiniana quella dell'empirismo inglese cioè dell'essere umano come animale sociale dotato di istinti sociali quindi di simpatia un animale che tende a stare in compagnia dei propri simili e che questa è la intuizione a mio parere curiosa geniale di Levi proprio perché è un animale sociale l'essere umano può compiere diventa aggressivo cioè darwin è per così dire la fine del dell'ottimismo della definizione animale sociale aristotelica cioè come se ci fosse appunto l'essere umano è un animale sociale cioè ama stare in compagnia quindi l'aggressività il male sono fenomeni contraddittori antisociali in realtà quello che dice anche darwin è che la simpatia che l'essere umano prova è un altruismo a corto raggio quello che nei sommersi salvati Levi chiamerà il nosismo cioè l'egoismo esteso che ti sta più vicino gli animali sociali vivono in tribù in gruppi e la solidarietà è la solidarietà verso un gruppo verso un altro gruppo nasce lotta intraspecifica aggressività per questo per darwin il processo di civilizzazione era l'allargamento costante della simpatia dalla tribù alla nazione all'umanità tutta fin anco dice darwin a tutti gli esseri senzienti cioè gli animali però presuppone che l'altruismo la socialità di cui l'essere umano è capace è una socialità limitata spazialmente limitata e questo è quello che è la concezione antropologica che levi inserisce nella sua analisi del lager quindi né il pessimismo antropologico alla obs né il buon selvaggio di rousseau ma questa posizione mediana che ha una sua storia e che trova in darwin il compimento naturalistico ora qual è il risultato dell'esperimento a auschwitz sostanzialmente per levi non bisogna attendere molto che messi messo un gruppo di animali umani variopinto diverse lingue diverse culture messi insieme immediatamente avviene questo fenomeno ci pare invece degno di attenzione questo fatto viene in luce che esistono fra gli uomini due categorie particolarmente bel distinte i salvati e i sommersi altre coppie di contrari i buoni i cattivi i savia i distolti i vili i coraggiosi i disgraziati i fortunati sono assai meno nette sembrano meno congenite e soprattutto ammettono gradazioni intermedie più numerose e complesse questa divisione è molto meno evidente nella vita comune in questa non accade spesso che un uomo si perda perché normalmente l'uomo non è solo e nel suo salire e nel suo discendere è legato al destino dei suoi vicini per cui è eccezionale che qualcuno cresca senza limiti in potenza o discenda con continuità di sconfitta e in sconfitta fino alla rovina inoltre ognuno possiede di solito riserve tali spirituali fisiche o anche pecuniarie che l'evento di un naufragio o di un'insufficienza davanti alla vita assume una anche minore probabilità si aggiunga ancora che una sensibile azione di smorsamento esercitata dalla legge e dal senso morale altra spia linguistica darwiniana che è legge interna viene infatti considerato tanto più civile un paese quante più savi ed efficienti vi sono quelle leggi che impediscono al misero di essere troppo misero e al potente di essere troppo potente cioè la civiltà è esattamente questo è la lotta contro la tendenza umana quindi naturale di estremizzarsi in opposti i sommersi i salvati i sopra i sotto la civiltà ha il compito di trattenere questa tendenza di smussarla è ovviamente antiutopico antimassimalistico qui Levi però la civiltà è questo ovviamente qui come vedete politica etica naturalismo sono tutti intrecciati questo è il bello di Levi intreccia tutto il bello è di panarlo e appunto c'è un parallelismo tra i sommersi e salvati come risultato di quel setting sperimentale quindi data quella condizione di sopravvivenza un gruppo umano tende a biforcarsi immediatamente senza gradazioni intermedie in chi ce la fa e in chi non ce la fa questo lo troviamo nella vita di tutti i giorni ma in una civiltà questa differenza è smussata però questa differenza che emerge nel campo di concentramento fa specchio al movimento della vita infatti poche righe dopo scrive Levi nella storia e nella vita pare talvolta di discernere una legge feroce che suona questa è la legge della vita a chi ha sarà dato a chi non ha a quello sarà tolto nel lager dove l'uomo è solo e la lotta per la vita si riduce al suo meccanismo privordiale la legge iniqua è apertamente in vigore e riconosciuta da tutti cioè qual è la legge della vita la legge della vita per Levi è la disuguaglianza che è il meccanismo che fa funzionare la selezione naturale la selezione naturale per funzionare ha bisogno della disuguaglianza tra dati e inadatti se no non funziona il meccanismo non c'è vita ora vado verso la conclusione perché si è fatto mi date ancora dieci minuti vado verso la la conclusione la vita appunto è disuguaglianza per Levi la legge della vita è la disuguaglianza e allora una civiltà deve lottare contro la vita perché la vita fa questo e soprattutto quello che Levi trova indigesto della vita è che la produzione degli idonei è la produzione di una casta di fortunati perché poi ogni idoneo nella selezione naturale in determinate condizioni si troverà esattamente ad essere non idoneo la produzione di pochi doni avviene come veniva scritto nel in la luna e l'uomo no? a scapito di milioni di vite distrutte per permettere a poche di sopravvivere questo è quello che Levi trova indigesto della vita e questo è quello contro cui una civiltà e quindi l'essere umano per se stesso per la propria salvezza deve lottare ora qui si potrebbe porre la questione del rapporto tra male naturale e male politico e la prospettiva di Levi eredita tutta l'ambiguità della prospettiva anche di Darwin cioè qui quindi il male di Auschwitz è un male che replica il male naturale in realtà no però appunto la posizione di Levi è complessa e non entro in questo potrebbe essere sede di dibattito quello che conta è che e vado appunto alla conclusione qui si apre prima di tutto che l'esito del materialismo di Levi sequestra la legge della vita l'esito del materialismo di Levi non può essere altro che l'ateismo che come già cercavo di dire lunedì è tutto tranne che la manifestazione di uno stato d'animo o un'opinione religiosa ma è una posizione ontologica Dio non può esserci perché come dicevamo perché rifiuta l'argomento della provvidenza Levi perché la provvidenza salva e salva qualcuno a scapita di qualcun altro fa esattamente quello che fa la vita quindi il principio provvidenza è esattamente la legge della vita e quindi Levi la deve scartare Levi la scarta è una mossa atea antiteistica perché come si può accettare la distruzione di milioni di vite in nome di poche così come si può accettare che Dio decida di salvare uno per scrivere un libro e far morire migliaia di altri quindi questa però appunto volevo entrarci ma non ci entro nella questione dell'ateismo di Levi qual è l'esito dell'ateismo di Levi che l'essere umano o si salva da solo o non si salva e se si salva concretamente e Levi qui rifiuta la filosofia perché se la filosofia è consolazione dell'anima stoicismo davanti a questa vita inesorabile allora non serve a niente è un gesto aristocratico lo stoicismo se lo può permettere chi se lo può permettere ma chi soffre soffre qui e ora e chiama giustizia adesso questa è la carica morale del materialismo di Levi no e qui arriviamo questa è la citazione appunto dove Levi rifiuta l'argomento della provvidenza no mi è sembrata una bestemmia cioè l'idea appunto di essere stato salvato perché Dio avrebbe concesso dei privilegi salvando qualcuno e condannato qualcun altro quindi come vedete disuguaglianza naturale disuguaglianza politica questione etica e politica dell'uguaglianza si intrecciano continuamente in Levi è un pattern ma appunto ovviamente dire che concretamente l'unica salvezza che l'essere umano ha è la scienza non significa che Levi fosse che Levi sia stato sostanzialmente un fanatico positivista no la scienza ha un ruolo morale quindi condizionato e infatti prendo questa intervista del 72 chi nega i benefici delle macchine in mala fede forse che non possiede un frigorifero non ha mai telefonato no qui Levi sta schernendo i tecnofobici no di cui la filosofia del secondo novecento è abitata diciamo a gran numero no i tecnofobici lui li chiama i nuovi arcadi certo la tecnologia è il male di tutti i mali però fa comodo ma altrettanto chiaro che una tecnologia impazzita o asservita ad una classe può condurre il mondo ad una catastrofe ad una lenta cancrena mentre la scienza come figlia della ragione può liberare l'umanità da buona parte delle sue sofferenze e dentro certi limiti lo ha già dimostrato come quei libri di cultura d'oggi penso che la tecnica sia come la lancia di Achille che ferisce e guarisce a seconda di come viene maneggiata o meglio a seconda della mano che la regge quindi se la scienza è guidata dalla morale dell'uguaglianza cioè serve per tutti per tutta l'umanità allora quella è la battaglia che dobbiamo condurre una scienza aristocratica asservita a logiche di classe o di potere ovviamente è uno strumento negativo tanto è vero che proprio per questo davanti allo spettro della bomba atomica dell'olocausto nucleare Levi proprio siamo sempre nell'ultima parte della sua vita Levi addirittura si impegnerà pubblicamente in una battaglia certamente ingenua però appunto lui così cercava di dirle queste cose perché anche gli scienziati come i medici praticano un giuramento un giuramento morale no? cioè quello che troviamo qui in questo piccolo manifesto che si chiama Covare il Cobra dell'86 anche questo sulla stampa e cioè appunto rifiuterai di formulare un gas nervino mai accetterai di studiare un nuovo medicamento e rifiuterai di formulare un gas nervino che tu sia o no un credente che tu sia o no un patriota se ti è concesso una scelta non lasciarti sedurre dall'interesse materiale intellettuale ma scegli entro il campo che può rendere meno doloroso e meno pericoloso l'itinerario dei tuoi cotagni e dei tuoi pensieri non nasconderti dietro l'ipocrisia della scienza neutrale quindi vedete è anche critico non è appunto un fanatico c'è passato lui stesso con la sua pelle si è abbastanza adotto e quindi anche etico da saper valutare se dall'uovo che stai covando scuscerà una colomba o un cobra o una chimera o magari nulla allora e qui chiudo e mi scuso per essere andato troppo lungo sempre in quella ricerca delle radici il saggio che chiude antologizzato che chiude la ricerca delle radici è un articolo del 74 che Levi prende da una delle sue fonti scientifiche preferite scientific american di Kip Thorne del fisico Kip Thorne la ricerca dei buchi neri ok non so quanti di voi ricordino o sappiano che la ricerca delle radici si apre con un grafo in cui Levi costruisce degli itinerari di lettura della sua antologia questo grafo è l'ittico in un fuoco sta la figura di Giobbe il Giobble bibbico il giusto che soffre ingiustamente l'essere umano sovverchiato da forze a cui non può resistere cioè la forza divina e tutti gli itinerari con delle frecce conducono al fuoco opposto che è il buco nero che è per Levi l'immagine plastica della natura che c'è nemica di un universo in cui la vita è per così dire uno sbaglio non ci dovrebbe essere no? appunto Levi eredita quell'idea della vita come quel fenomeno di resistenza alla tendenza dell'universo all'entropia alla dissoluzione alla distruzione e la vita è quel tentativo misero fragile e molto doloroso perché si soffre di resistere a questa inevitabile distruzione tra l'altro qui si crea una serie di incroci suggestivi Thorne chiude quel suo articolo dicendo non possiamo aspettarci risultati a breve scadenza è uno dei articoli diciamo pionieri in cui vengono sistematizzati le prime conoscenze su quest'ipotesi dei buchi neri non c'erano prove quindi non possiamo aspettarci risultati a breve scadenza ma al futuro non sembra privo di promesse allora uno dei protagonisti di quel film interstellare da cui siamo partiti è il buco nero Gargantua Gargantua che è un omaggio al personaggio di Rabelais che è uno degli scrittori preferiti di Primo Levi no? e Kip Thorne è uno dei consulenti che ha ideato l'animazione grafica animazione grafica che trova che ha trovato poi riscontro nel 2019 con la famosa foto no? dell'Event Horizon Telescope del buco nero cioè la prova provata no? concludo leggendovi quello che Levi scrive appunto nel suo cappello introduttivo e che appunto si riaggancia a quello che abbiamo visto all'inizio è in corso la più grande delle rivoluzioni culturali la stanno conducendo in silenzio gli astrofisici gli astrofisici il profano e profani siamo tutti ad eccezione di un migliaio di specialisti al mondo non può che accettare i nuovi mostri celesti reprimere brividi inediti tacere e pensarci su dalle spedizioni interplanetarie degli ultimi dieci anni abbiamo imparato più cose sul cosmo di quante ne avessimo dedotto in tutti i millenni precedenti siamo scusate abbiamo visto fra l'altro che lunari venusiani e marziani non esistono e non sono mai esistiti siamo soli se abbiamo interlocutori essi sono così lontani che a meno di imprevedibili svolte con loro non parleremo mai tuttavia qualche anno fa abbiamo mandato loro un patetico messaggio ogni anno che passa ci rende più soli non soltanto l'uomo non è il centro dell'universo ma l'universo non è fatto per l'uomo è ostile violento strano nel cielo non ci sono campi elisi bensì materie e luce distorte compresse dilatate rarefatte in una misura che scavalca i nostri sensi e il nostro linguaggio ad ogni anno che passa mentre le cose terrestre si aggovigliano sempre più le cose del cielo inaspriscono la loro sfida il cielo non è semplice ma neppure impermeabile alla nostra mente ed attende di essere decifrato la miseria dell'uomo ha un'altra faccia che è di nobiltà qui torniamo all'incipit di Darwin forse esistiamo per caso forse siamo la sola isola di intelligenza nell'universo certo siamo inconcebilmente piccoli deboli soli ma se la mente umana ha concepito i buchi neri ed osa sillogizzare quanto è avvenuto nei primi attimi della creazione perché non dovrebbe saper debellare la paura il bisogno e il dolore e io vi ringrazio allora aprirei aprirei al dibattito leggo qui scusate parto dalla domanda online poi se ci sono anche qui penso che il tema della disuguaglianza legge della vita sia un aspetto della speculazione di primo Levi di straordinario interesse ma è come oggi grazie grazie a lei se ci sono domande curiosità prego grazie molto interessante allora domande vorrei sapere se c'è qualcosa da dire sull'ambiente dell'illuminismo piemontese poi precisamente degli ambienti ebratici illuministici il rapporto con primo Levi se ci sono state dei scambi intellettuali con Gianna Meri infine come si chiamerà il libro suo che esce sull'argomento il prossimo mese grazie allora in realtà sull'ambiente illuminista torinese in particolare l'ambiente positivista torinese il padre è stato un frequentatore Levi quindi quell'ambiente lo eredita appunto perché il padre è lui che lo instrada verso questo verso questo orizzonte il padre tra l'altro cosa molto curiosa il padre a quanto pare compra una biblioteca di un suo amico illuminista in cui si trova Voltaire Rablè sono parole di Levi quindi in realtà quello è l'universo di Levi infatti non molti hanno parlato dell'illuminismo di Levi per quanto riguarda la questione legato all'illuminismo ebraico io non saprei risponderle con certezza anche perché è stato ben ricostruito l'ambiente la peculiarità del fatto di appartenere alla borghesia ebraica torinese quindi anche una borghesia molto integrata con aspetti forti di laicismo in cui c'è anche una sorta di in maniera molto grossolana superficialità dell'utilizzo della cultura la famiglia di Levi non è una famiglia particolarmente credente ma non particolarmente diciamo interna alle dinamiche culturali quindi Levi se ne distacca come abbiamo visto però questa è l'area culturale che respira da giovane e a quale poi si attiene poi anche per inclinazione personale sarà comunque uno scienziato per tutta la vita a causa delle leggi razziali non potrà essere un scienziato teorico lo dirà con grande dispiacere quindi ripiega sul lavoro di chimico quindi sostanzialmente questa è la la prima risposta la seconda domanda invece era su si ci sono stati Celf ne parlava ieri Mengoni il capitolo dell'intellettore ad Auschwitz nei sommersi e salvati è stato un rapporto di scontro appunto sia per la questione del perdonatore per Amery il rapporto anche teorico nei confronti dei propri Aguzzini doveva essere un rapporto di scontro la restituzione del colpo Levi rivendicando una posizione invece di comprensione nel senso di cercare di capire non di comprensione nel senso di perdono verrà ovviamente accusato da Amery per così dire del perdonatore etichetta che Levi rifiuterà ma quello che è interessante dell'intellettuale ad Auschwitz è ancora una volta il colpo che Levi lancia alla figura dell'intellettuale inteso come intellettuale umanistico prima di tutto perché ad Auschwitz un intellettuale non sopravvive perché è un inadatto ed è un inadatto perché non sa lavorare mentre gli uomini che sanno lavorare che lavorano con le mani quelli che non usano il cervello così così definiti dagli intellettuali un po' distaccati sopravvivono Lorenzo il muratore Levi aveva fatto un po' di fabbrica un po' di montagna sopravvive era abituato a lavorare quindi c'è un attacco anche all'intellettuale qui c'è tutta la questione del lavoro nel momento in cui Levi elogia il lavoro è anche quella una mossa contro gli intellettuali contro gli intellettuali che considerano un lavoro manuale come denigrante nei confronti delle potenzialità più alte dell'animale umano che è l'uso della ragione e Levi dice chi scrive scrive con le mani è un lavoro manuale come qualsiasi altra cosa è il pensiero a origine che questo letture lì proprio cita Darwin l'origine materiale del pensiero dato dalla liberazione delle mani quindi gravitiamo un po' sempre attorno alla stessa questione per quanto riguarda il libro il libro si intitolerà con quel tono molto felice allegro anche di oggi la vita è ingiusta e dovrebbe uscire il mese prossimo per i saggi della casettrice dell'istituto vedo domande online se non ci sono altri qui allora professor Di Meo certo se non so se è abilitato il microfono prese a lei e a tutti gli altri io volevo sottolineare alcune cose molto impassanti che la famosa espressione a chi ha sarà dato a chi non ha a quello sarà tolto è la legge secondo Levi è la legge tragica della vita è un'espressione del Vangelo secondo Matteo che paradossalmente la legge tragica della vita sarebbe stata enunciata da Gesù e riportata dall'evangelista così dal presunto evangelista Matteo e qui c'è un enorme paradosso e bisognerebbe capire perché Levi utilizza il Vangelo per dire che quella espressione del Vangelo di Matteo è la come dire la norma tragica che regola i rapporti della vita e qui effettivamente del resto nella sociologia della scienza Sarton in particolare parla di effetto san Matteo nel senso che appunto nella scienza nello sviluppo della scienza e se uno che ne so vince il premio Nobel sicuramente oltre al premio gli verranno dati molti fondi per le proprie ricerche che magari saranno sottratti ad altre ricerche quindi chi ha il Nobel sarà dato prende un sacco di soldi diciamo chi non ha vinto il Nobel gli viene sottratta una parte dei fondi di ricerca che vengono destinati vincitore del Nobel questa è una regola che è stata presa appunto nella sociologia della scienza novecentesca e quindi forse si riferisce anche a quello lei ora a me pare devo dire che ci sono molte cose che lei ha detto che sono di grandissimo interesse meriterebbero discussioni molto ampio però a me pare che bisogna registrare un fatto che Levi coglie della scienza e di coloro che hanno parlato della scienza e degli effetti diciamo così antropologici di alcune scienze da quelle biologiche a quelle cosmologiche sono gli aspetti più catastrofici più estremamente diciamo drammatici come del resto era Monod Jack Monod siamo soli nell'universo questo è Monod che Levi conosceva molto bene ma c'erano altri scienziati che invece sostenevano posizioni meno drammatiche di relazione fra la solitudine umana e il resto dell'universo e il resto della materia e Levi interpreta la crescita dell'entropia come un processo contro il quale bisogna lottare per impedire che il disordine prevalga sull'ordine ma ci sono stati filoni di ricerca della termodinamica che sostengono che proprio grazie al disordine che si crea l'ordine le famose strutture dissipative della termodinamica e dei processi lontani dell'equilibrio quindi a me pare che diciamo Levi non è che fa proprie le posizioni delle scienze e degli scienziati sceglie fra le scienze e gli scienziati le posizioni che in qualche modo si rivelano più tragiche più drammatiche per l'esistenza umana cioè che rivelano una condizione umana molto molto desolante anche di fronte a coloro che in realtà scienziati contemporanei allevi sia da giovane sia da anziano o anche scienziati pur avevano senza arrivare al teismo al creazionismo al disegno intelligente dell'universo come anche se qui ogni tanto Levi cede a questo linguaggio sul disegno dell'universo intelligente eccetera senza arrivare a questo però ci sono posizioni meno terribili sulla funzione dell'uomo sulla funzione della scienza e sul fatto che la scienza può essere vista in un modo diverso alcune idee provenienti dalla scienza possono essere valutate in maniera diciamo così più ottimistica una cosa che a me invece colpisce molto e ha sempre colpito molto il Levi è che non i sommersi e i salvati diciamo così oppure sul arminismo di tipo sociale che nello stesso Lager Levi dice in sequestro un uomo che c'erano dei gruppi di resistenza sionisti e comunisti avevano formato nei limiti in cui era possibile Dauvis dei gruppi di resistenza alla logica dell'Uager e che nello stesso Lager c'erano persone come Sandro Dalmasro e Lorenzo il cerebro Lorenzo che erano delle contraddizioni viventi oppure come il francese di cui adesso ha vissuto il nostro piccolo mi pare che erano delle contraddizioni viventi ed evidenti rispetto alla logica dell'Uager quindi a me pare che a volte Levi sia troppo drastico nella suddivisione netta fra quello che è l'uomo in determinate condizioni perché anche nelle condizioni più terribili come Auschwitz c'era una possibilità di resistere di andare contro di muoversi in un modo alternativo per quanto era possibile grazie grazie a lei professore rispondo brevemente per quanto riguarda la la citazione appunto del del Vangelo di Matteo in quel passaggio da un lato c'è lì c'è tutto Levi perché in quelle due righe ora non sto riprenderle ma troviamo una citazione della Bibbia una criptocitazione manzoniana troviamo di tutto e di più in giro di due o tre righe quindi lì c'è anche proprio l'ecletismo di Levi nell'uso libero delle citazioni e delle fonti dall'altro lato non mi sembra nemmeno così paradossale usare una legge diciamo un principio morale esposto da Gesù quindi da Dio e proprio per esemplificare un principio di disuguaglianza perché è esattamente come funziona la provvidenza per Levi cioè per Levi proprio la questione della provvidenza è una questione di legittimazione delle disuguaglianze l'atteo dicea è l'accettazione delle disuguaglianze per Levi quindi non mi stupisce nemmeno quello devo confessarle che una delle cose che mi incuriosisce di più è capire perché in quel contesto in quel momento Levi ricorra a quel tipo di citazione e non mi accontenta la risposta che è stata data perché è comunque un passo notissimo e Levi conosceva la Bibbia secondo me c'è molto di più nella mia ricerca l'ho anche messa in una nota nel libro appunto perché non possiamo esserne certi e quindi questa rimane una possibilità finché non avremo una prova riguardo a cosa c'è lì dietro c'è un libro di Julian Huxley che è un autore che Levi frequentava che si intitola Cosa oso pensare che è un po' quello che oggi retrospruttivamente è considerato il libro fondatore del transumanesimo comunque un manifesto di quel pensiero dell'umanesimo scientifico diceva Huxley che è quello che Levi sta leggendo in quegli anni un libro di quegli anni lì fin anni 20 anni 30 e proprio in quel libro Huxley scrive che la legge della natura è la seguente due punti aperte virgolette a chi ha sarà dato non so dire se questa è una citazione diretta da parte di Levi non mi stupisce però di ritrovarla quindi questo più o meno la mia curiosità è stata in parte soddisfatta da questo ritrovamento per quanto riguarda la seconda questione cioè sulla scelta diciamo del tono più tragico delle scienze condivido credo che Levi scegliesse ciò che è esistenzialmente da un punto di vista esistenziale più rilevante che ci permette di pensare di più proprio ritrova del fatto che le scienze naturali fanno pensare e fanno pensare molto in profondità alla faccia della superficialità a cui la volevano inchiodare appunto i neoidealisti quindi credo che ancora una volta lì troviamo una scelta diciamo che permette possibilità di pensiero e se vogliamo anche credo che io sono molto contrario all'uso delle categorie ottimismo e pessimismo per qualunque autore da Leopardi a Levi perché appunto credo siano categorie metafisiche che presuppongono una definizione morale del destino del mondo sono categorie che dopo Darwin non dovremmo neanche più usare appunto perché dovrebbe essere pessimistico dire che siamo mortali e dopo la morte non c'è nulla perché dovrebbe essere ottimistico dire che c'è qualcos'altro con la prova dei fatti che quel che sappiamo è che moriamo quindi non è una questione di pessimismo è una questione di appunto per lei serve una questione scientifica che cosa ne dobbiamo trarre da questo che la vita appunto è ingiusta e per questo che io ho deciso di intitolare il libro in questo modo ma soprattutto che dobbiamo reagire perché l'ottimismo è immobilizzante da questo punto di vista va tutto bene no non va per nulla bene un po' come il candido di Voltaire quindi secondo me c'è questo un po' poi certo Levi non è che fosse sempre esatto però mi pare nel lavorio intellettuale delle sue considerazioni che ci fosse questo sull'ultima considerazione le do pienamente ragione ed è quello che abbiamo cercato di fare io e Carlo Greppi lunedì cioè ricordare che c'è una riflessione sul bene in Levi a partire dalla figura di Lorenzo di Piccolo di Alberto di Del Mastro sì appunto di Del Mastro c'è una riflessione sul bene c'è una possibilità di resistenza sempre ed è anche quello che genera il jacuzzi morale di Levi nei confronti del compromesso del privilegio così come anche mi pare che sia del tutto coerente con quella concezione diciamo dell'animale sociale di cui ho parlato cioè appunto è un animale che può essere simpatetico come può essere aggressivo a seconda delle condizioni materiali in cui si ritrova perché appunto l'insegnamento di Darwin è che quell'espansione della civiltà presuppone delle condizioni materiali appena quelle condizioni materiali avvengono subentra l'egoismo della selezione naturale cioè l'utilità solo per me per esserci al turismo c'è bisogno di avere la pancia piena ha detto Franz Deval quindi non lo so queste sono considerazioni a caldo professore ci sono altre domande qui in sala no no lo so dicevo il parallelismo no no dicevo appunto che quello è semplicemente una suggestione che mi ha fatto pensare di come Levi potesse aver ottenuto un'ispirazione da un fronte naturalistico di come poter impiegare quella citazione biblica in un contesto in cui si vuole parlare della legge della vita ovviamente sono consapevole del fatto che quello fosse una citazione di Matteo la professoressa Forzano chiede la concezione che le via della scienza non può anche essere letta come un'aporia del materialismo che cosa intende per aporia del materialismo professoressa se posso e comunque provo a cercare di insomma supposto che abbia capito corretto questo è figlio di quella contraddizione di quella apparente contraddizione che troviamo nella definizione del dualismo civiltà e natura in Darwin perché appunto non vuole essere un dualismo ma nei termini in cui è messo lo è Darwin spiegherebbe questo col fatto che non possiamo fare altro che esporre così perché chi ha letto l'origine delle specie lo sa c'è tutto un travaglio tutta una considerazione sulle possibilità del linguaggio umano che ha una serie di limiti dall'essere intrinsecamente finalistico all'essere dualistico quel manicheismo di cui parlava Levi nell'incipit del capitolo della zona grigia tendiamo a semplificare cioè siamo manicheistici per natura tra l'altro in quel passaggio lì ieri è stato citato ma Levi dice questa tendenza manicheistica deriva dalla nostra natura di animali sociali noi e loro appunto quell'idea settaria gregaria l'animale sociale è un animale gregario e quindi ci ritroviamo di fronte al fatto che per dire questa cosa cioè del fatto che in natura emerge questo fenomeno che è la morale che è un fenomeno che tende ad andare in direzione ostinata e contraria per così dire rispetto alle leggi della vita è ovvio che dobbiamo continuare a pensarlo per Darwin come o per lo meno da un punto di vista materialistico non come un'eccezione perché se c'è eccezionalismo la natura non fa salti dice Darwin allora a quel punto entriamo in un orizzonte che non è più quello della selezione naturale quindi il problema si pone che ovviamente nel dire che l'essere umano è notato di una ragione che è capace di scienza e che è capace di andare contro la stessa vita che l'ha messo al mondo è evidente che cadiamo in una sorta di loop in una sorta di contraddizione che però appunto da una prospettiva naturalistica come quella di Levi si tratta di uno strumento adattivo la ragione è uno strumento adattivo e la lotta contro la vita non è altro che appunto la lotta per la sopravvivenza il problema è che è giocata contro la vita perché la vita non avere una posizione vitalistica ma una posizione materialistica che è proprio l'origine delle specie tra l'altro si apre con il contrasto con Lamarck cioè col vitalismo di Lamarck e che è anche un po' presente oggi è ritornato molto il nuovo vitalismo il vitalismo presuppone una potenza della vita e il male la sofferenza il dolore sono secondo queste prospettive opera umana cioè di un'umanità che si oppone alla vita la restringe la confina diciamo un po' sono prospettive nicciane quindi la vita è potenza l'atteggiamento etico è far respirare questa potenza un'umanità che appunto coincide con la vita che è una fallaccia naturalistica come lo è il darwinismo sociale e il problema della scienza è che la scienza viene proprio vista come ciò che combatte la vita non in quanto fenomeno per così dire metafisico ma in quanto fenomeno materiale cioè la vita è sopravvivenza è un input di resistenza all'entropia e quindi la lotta per la sopravvivenza è la lotta contro la vita stessa e so che è un po' paradossale però perlomeno questo è quello che io vedo in Levi sì c'è ancora una domanda brevissima perché almeno si è fatto un po' tardi prego non l'ho sentito grazie per per l'interessantissima lezione complimenti per l'originalità dei tuoi studi mi aveva interessato particolarmente la questione dei presocratici quindi cioè la mia domanda in realtà era dunque si potrebbe secondo te parlare un po' di una sorta di insopportazione da parte di Levi nei confronti dei presocratici o non so se ti sei interrogato un po' di più riguardo a a questo rapporto qui ovviamente ci sono dei nomi che tornano in maniera abbastanza preponderante nella sua opera poi non so se avessi già aperto qualche prospettiva di ricerca indagine insomma qualcosa di simile non so se vuoi che ti specifichi un po' meglio quello che vorrei sapere però la mia domanda era un po' di carattere generale cosa mi chiedi perché appunto lo sai meglio di me Mattia Crevero ha lavorato molto su queste cose ci sono le presenze appunto dei filosofi antichi in particolare da Lucrezio Empedocle in Levi tutti cioè Lucrezio il padre dei materialisti per intenderci sulla questione dei pressocratici io non so nemmeno quanto possiamo spingere a fondo queste cose cioè che Levi potesse avere una fascinazione per i filosofi della natura pre-platonici in cui la filosofia coincideva ancora con la ricerca naturalistica assolutamente sì perché sono quella cultura non dualistica che per Levi è tipica dei filosofi che in realtà sono esistiti Levi lo dice nell'altrui mestieri no Galileo scriveva e faceva scienza Newton scriveva e faceva scienza Kant si studiava astronomia cioè Levi lo scrive questa cosa dice esistono quindi è più piegato sulla contemporaneità per Levi il problema della schisi tra le due culture cioè per Levi riconosce che la nostra cultura è fondata dalla compenetrazione delle due cose e che Galileo era un grande scrittore non eccezionalmente ma perché era un grande scienziato e infatti lo sappiamo bene che Levi dirà anche che un chimico può essere addirittura uno scrittore più ricco perché è un linguaggio più ricco quindi c'è di nuovo un'altra provocazione non solo può essere uno scrittore ma volendo può essere anche uno scrittore migliore quindi adesso in maniera specifica non saprei cosa rispondere non voglio avventurarmi risposte campate in aria però sicuramente e sono figure molto più simpatiche per Levi rispetto non lo so a chi fa della filosofia esattamente la disciplina che si oppone alla sterilità delle scienze naturali questo senza ombra di dubbio però una risposta un po' così se non ci sono altre domande né da remoto né in sala io chiuderei ringrazio veramente tutte le persone che hanno partecipato speriamo di rivederci in un'altra occasione qui in istituto su Levi o su altro e grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti